Sisalpoker.it Un altro giro? Real poker, real fun Siamo al quarto giorno di gioco E poi ancora l'evento 52 Triple chance, no limit all them day 2 Il 7 car sta dai low 8 or better day 2 Quindi secondo giorno di gioco anche in questo caso E poi alle 5 del pomeriggio si comincia con Il 2-7 tribe throw low ball limit da 2.500 dollari Evento da 3 giorni Nostro ospite quest'oggi è Marco Traniello Del team Full Tilt Benvenuto Marco Ciao Allora, hai detto subito una cosa Parlare di poker per me non è facile Perché ormai sono abituato a pensare in inglese Anche se sei di Gaeta Sì, sono più italiano possibile Infatti Gaetano Però il poker l'ho conosciuto in America Quindi pensare Raise, fold E poi ho sentito che anche in Italia parlano così Dicono ho ceccato, ho resato È bellissimo Allora, tu sei sposato qui Negli Stati Uniti Sei sposato con una giocatrice professionista Che è Jennifer Arm E ti ha contagiato con la posizione del poker, vero? Dopo un paio d'anni che la vedevo giocare Ho cominciato io me stesso E poi ho avuto un'ottima annata Il primo anno che ho giocato a poker E da allora sono diventato professionista E che tornei fai qua adesso? Hai già deciso qualcosa? Ok, faccio il 3.000 domani Quello di triple chance Che vuol dire che ti danno due extra buy-in Che tu puoi mettere in gioco In discussione in ogni momento Se diventi broke Oppure se vuoi cominciare con 9.000 Quando gli altri cominciano con 3.000 Perfetto Altri appuntamenti? Immagino il main event non lo mancherai Ah, il main event è quello che tutti aspettano È come dire il Kentucky Derby Per quelli appassionati di cavallo Oppure Grand Prix È il massimo Proprio il massimo del massimo E altre specialità Nelle quali ti vuoi cimentare Prima del main event? Farò il 2-7 C'è domani Lo stesso giorno del triple chance C'è un 1.500 high-low stud Che è un torneo bellissimo per me Spero di non giocarlo Perché sono nell'alto Però altrimenti lo gioco Ma ti manca un po' l'Italia? Tanto Allora lì A luglio andiamo a fare un poker million A Londra Con la squadra di Full Tilt E spero di riuscire a scendere Un po' a che giorno giù Io di solito il mese d'agosto Sono sempre in Italia